Edizioni musicali Casa dei Sonora presentano Romagna Mia Classiche, un programma di musica e spettacolo. Buon divertimento! Buon divertimento! In apertura che questo programma è un prodotto delle edizioni musicali Casa dei Sonora. Tanto spettacolo, attualità, magia, ma perché no anche un po' di immagini d'archivio. Quindi facciamo un tuffo all'inizio proprio di questa fortunatissima trasmissione televisiva che porta al nome di Romagna Mia. E precisamente nel 1988-89, quando sul palcoscenico del Teatro Moderno di Savignano c'era veramente un cast inconfondibile. Sto parlando della presentatrice, la cantante, insomma per eccellenza era la grandissima Nilla Pizzi che era affiancata allora da Moreno Cavallotti, Madame Maurice e per quanto riguarda i collegamenti esterni da Luciano Vasini. Adesso però diamo il via alla puntata con la prima esibizione della giornata. Quindi vediamo in scaletta chi c'è, canta Moreno Cavallotti e qui chiedo però prima dell'esibizione di Moreno il contributo della regia tecnica di Gianluca degli Angeli che ringrazio e saluto è con me quest'oggi nella puntata di Romagna Mia Classic quindi chiedo il contributo della scheda tecnica per sapere qualcosa di più di questo personaggio e subito dopo lo ascolteremo con la sospensione da voce. Ora che non ci sei più Ora che posso dirti più Vorrei gridare al mondo il tuo nome Marco Quelle poche parole per te Scritto e forse chissà perché Volevano soltanto regalarti un minuto Ora posso Gettarle via Tanto a cosa non servo più Rimane solamente il tuo ricordo Caro tu Chiedevi solo di vivere E non volevi di più Ti era bastato quel niente che La vita crudele ti ha dato Non è possibile Che tu non sia più qui Non è possibile Che tu non sia più qui Non è possibile Che tu non sia più qui Non è possibile Che tu non sia più qui Quell'imbroglio per mandarti via Per nasconderti la verità Che rimaneva solo poco tempo Marco Poi l'impatto con la realtà L'istituto L'istituto lontano da qua Non ti restava più Non ti restava più altro da fare Non ti restava più Non ti restava più Io mi sto Tanto a cosa non E che Per nasconderti la verità Lontano da qui No, non è possibile che tu non sia più qui. No, non è possibile che tu non sia più qui. Il secondo artista della giornata, bravissimo come sempre il nostro Moreno Cavallotti nella sua prima esibizione di quest'oggi ma poi lo ritroveremo nell'arco della puntata. Adesso però è il turno di un altro artista che faceva parte del cast di allora, sto parlando del maestro Lamberto Liparini. Eh sì, Lamberto Liparini vanta di una carriera veramente molto prestigiosa, è un bolognese doc, qui chiedo il contributo della scheda tecnica per sapere veramente un po' quello che ha fatto in tutti questi anni il nostro Lamberto Liparini. Poi subito dopo lo sentiremo in Playboy. Poi subito dopo lo sentiremo. 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 veramente magica questa atmosfera ma proseguiamo con un'altra esibizione, quella della grande voce della Nilla Pizzi. La conoscerete tutti questa grandissima cantante. la vogliamo ricordare alla grande con questa esibizione. la grande con questa esibizione. Poi subito dopo lo sentiremo. 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 Sono rientrata magicamente ma solo per pochissimi secondi. per il contributo della regia. subito dopo lo sentiremo. Poi subito dopo lo sentiremo. Poi subito dopo lo sentiremo. a casa tua. A secondo Casa Dei con affetto. 27 brani interpretati dagli artisti della Romagna più amati e popolari. Richiedi subito il tuo cd. Chiamalo 0541 945259 o scrivi a info-casadeisonora.it Balzer, Mazzurche e Polche per una meravigliosa occasione di divertimento e buon umore. A secondo Casa Dei con affetto. L'amore per la nostra terra. Si sente, si ascolta, si balla. Centrale del Latte di Cesena. Ogni giorno lavora solo latte romagnolo dei propri soci. Proveniente dalle province di Forlì Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara. Per produrre latte, formaggi e gelati di assoluta qualità. Tutti i prodotti della Centrale del Latte, a garanzia di genuinità e trasparenza, hanno una tracciabilità giornaliera fino alla stalla di provenienza. Consultabile anche sul sito centralelattecesena.it Dalla tua terra alla tua tavola. Da 50 anni. Latte, formaggi e gelati di Romagna. Centrale del Latte di Cesena. La bontà che lascia traccia. Mobile Shop, da oltre 25 anni, il tuo centro arredamenti a Forlì. Da sempre una vastissima gamma delle più prestigiose firme d'arredamento al prezzo più conveniente. E per la tua serenità, 10 anni di garanzia. Decine di ambienti esposti e il più grande centro camerette della Romagna con le ultime novità 2012. Lo staff Mobile Shop è sempre a tua disposizione per consulenza e progettazione. Il pagamento lo scegli tu. Mobile Shop, per dare vita alla tua casa. Il tuo sogno. Via Bonaparte 50 di fronte alla Fiera di Forlì. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Bene. del mimo di questo artista veramente spettacolare Stefano Orselli. A voi! Al prossimo episodio 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 Al prossimo episodio